Anche Teatro Incanto sarà partner di questa importante iniziativa che rivitalizzerà ancora una volta il centro storico. Eh sì, rivitalizzerà, fantastico, il centro storico. Noi di iniziative per rivitalizzare il centro storico ne stiamo facendo un po'. E' proprio questa commedia, Toruzzo e Luvicia, che è di Nino Gemelli, l'abbiamo rappresentata a Spezzoni durante le feste natalizie sul corso. Adesso invece la faremo tutta intera. Siamo felici perché è una commedia bellissima che parla appunto delle feste natalizie che si è vista da due anziani, vede la solitudine degli anziani che devono resistere, sopravvivere e per fare questo si inventano un'impresa in cui vendono gaggioffi e gugliuterri. Ora, per chi viene da Bolzano, gaggioffi sono le castagne arrostite, i gugliuterri sono bollite. E quindi sono questi due anziani che vendono le castagne che si danno da fare per sopravvivere appunto a questo stato di solitudine in cui spesso gli anziani, ultimamente ancora di più, sono costretti. La commedia di Gemelli è un bellissimo inno all'amicizia, al Natale perché no, e alle tradizioni catanzaresi. Perciò, se volete farvi un giro verso le 17.30 di giorno 6, siamo in Piazza Prefettura, all'inno di Caddi, 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 Caddi. Qualcuno se lo ricorderà. Senta, quale riscontro state ricevendo in città, soprattutto dai cittadini, sulle attività, ma anche sui lavori che comunque quotidianamente le assozioni portano avanti? Noi stiamo ricevendo un riscontro straordinario in particolare su un lavoro, cioè sulla ristrutturazione del comunale. Stiamo riprendendo la storia di questo teatro che ha coinvolto grandissimi attori e che oggi coinvolge i più grandi attori della nostra storia, che sono i catanzaresi stessi. Cioè, stiamo vedendo che la gente ha voglia di rivedere, vivere questo teatro, che prima di essere un cinema, conosciuto come cinema, è prima di tutto un teatro, perciò noi stiamo rifacendo il palcoscenico, è rivedere le tavole. Da sotto il cemento è un'emozione che è difficile da spiegare, ma è straordinaria. I cittadini stanno rispondendo, molti stanno rispondendo non su internet, perché noi abbiamo lasciato un crowdfunding per avere il sostegno delle persone, per farle partecipare, ma molti internet ancora lo vedono un po' con titubanza. Invece vengono al teatro comunale, ci sostengono lì, ci danno una mano e anche, devo dire la verità, anche qualche contributo è arrivato, perché, insomma, siamo tanti. I catanzaresi che vogliono rivedere il teatro comunale sono tanti, perciò Catanzaro non è morta, anzi, il centro storico è vivo e sta veramente rispondendo bene sia alle nostre manifestazioni che anche a quelle culturali che stanno avvenendo in questo periodo. Sono tantissime e sono fatte anche molto bene. Allora, quest'anno abbiamo una Befana un po' particolare, abbiamo un'epifania nel senso religioso e biblico del termine, che appunto con degli angeli porterà ai dono arte, cultura, spettacolo, musica. Il giorno 5 è dedicato interamente ai bambini il pomeriggio, con animazione, canti, balli, su un programma musicale soprattutto per bambini con le musiche dei cartoni animati più amati dai bambini. La sera invece andremo sulla musica swing, che poi dilazionerà durante, insomma, per tutta la serata fino a chiusura, attraverso il pop, la musica leggera, eccetera, ad opera appunto di Rino o Napoli e la swing orchestra. Il 6 invece è un programma dedicato un po' a tutti quanti, perché si parte con la simpatia e il vernacolo del teatro in canto, con la regia di Francesco Passafaro, che porterà attraverso appunto il nostro bel dialetto una riflessione soprattutto sulla freneticità della vita quotidiana. Mentre subito dopo abbiamo uno spettacolo itinerante di teatro immagine, sotto la regia di Ivan Tanteri, che sarà appunto, come dire, un vivere il proprio territorio con delle scene che si, che appunto itinereranno intorno a Piazza Prefettura, che porterà appunto dal senso biblico dell'Epifania a quello più fiabbesco della Befana. Porterà appunto arte, musica, spettacolo e soprattutto legame col territorio e con i luoghi di ogni giorno.